Il nuovo Motorola Razr è un pezzo che rimarrà nella storia. Io lo sto provando da più di una settimana e ora sono pronto per dirvi che cosa ne penso. Quando ci si approccia per la prima volta a questi nuovi dispositivi pieghevoli bisogna capire da dove iniziare. Si parla quindi della cerniera, del display che si piega oppure dell'ergonomia. Io ho scelto quest'ultima perché è un dispositivo difficile da aprire con una sola mano. Bisogna infilare, incastrare il dito in mezzo a questa cerniera, però poi bisogna fare un po' di pressione con l'unghia sul display e come sappiamo questo schermo è piuttosto fragile e quindi c'è il rischio di irrigarlo con la sola pressione dell'unghia. Io durante tutti questi giorni di utilizzo questa settimana non ho riscontrato alcun problema, però secondo me a lungo andare questa si potrebbe rilevare come una delle criticità del nuovo Motorola Razr. Ad ogni modo, l'utilizzo invece con una mano è piuttosto agevole perché la scocca inferiore è costruita in policarbonato, c'è una trama che offre un buonissimo grip, stessa cosa per la parte superiore. Qui abbiamo il vetro e quindi si può impugnare bene, è abbastanza sottile, è un po' sì difficile raggiungere i bordi più alti, quelli superiori con il solo pollice, però comunque è uno smartphone che per gli standard attuali non è troppo grande. La parte interessante però l'abbiamo quando chiudiamo il dispositivo. Offre una sensazione di robustezza e compattezza molto molto particolare e soddisfacente. Si può, come vedete, girare e rigirare con una sola mano e soprattutto quando lo teniamo in tasca è una goduria. È un po' pesante all'incirca sui 206 grammi, però comunque io non ho mai sentito il problema del peso degli smartphone e soprattutto avere delle dimensioni così ridotte, così compatte, nell'utilizzo quotidiano mi ha fatto quasi totalmente dimenticare di averlo in tasca. Quando però l'apriamo si iniziano a sentire e vedere un po' di problemi. Ve lo faccio sentire subito. Questo rumorino lo sentiamo fin dal primo giorno e durante i giorni di utilizzo è peggiorato. Questo non è dato dalla cerniera che si apre, ma dal display che muovendosi va a raschiare, a strisciare sulle altre componenti ed è una cosa poco piacevole. Quando ci siamo accorti del problema ci siamo però anche chiesti perché Motorola avesse creato un dispositivo che avesse un display così tanto mobile. Beh, perché per creare uno smartphone con zero gap tra il display e la parte sottostante si è dovuto arrotolare il pannello OLED su se stesso nella parte della cerniera e poi farlo muovere qua sotto la tacca per circa qualche millimetro, il tutto per avere un dispositivo completamente piatto. La cosa è riuscita, però comunque si creano questi strani rumorini e non so nel corso degli anni quanto questo sia robusto. C'è da dire però che la cerniera è ben fatta, ha un movimento molto fluido, secondo me qui Motorola ha preso spunto un pochettino da Lenovo. Motorola è un'azienda che fa parte del gruppo Lenovo che come sappiamo costruisce dei dispositivi Yoga Book con delle cerniere fantastiche e secondo me ha studiato come sono state progettate e le ha miniaturizzate all'interno di un dispositivo così tanto piccolo. Ma parliamo ora di un componente molto importante, il display. Per creare dei dispositivi pieghevoli bisogna per forza, almeno attualmente, utilizzare dei pannelli OLED. In particolare questo sfrutta un plastic OLED. Difatti passando il dito si ha una sensazione che ricorda quella delle pellicole in plastica che si utilizzavano fino a un paio di anni fa. Cosa particolare? Quando lo si tiene aperto non c'è quella piega che abbiamo visto su altri dispositivi e quando passiamo il dito si, si ha un pochettino la sensazione di sentire la cernera che abbiamo al di sotto però comunque è molto più piacevole e meno netta rispetto a quella di altri smartphone. Non sto quindi a parlarvi di tutte le specifiche tecniche perché comunque non sono al top si tratta di uno schermo con la forma allungata però comunque essendo un OLED ha un buon livello di luminosità massima e si riesce a vedere bene anche in esterna. Passiamo ora al secondo display, quello che abbiamo sulla parte esteriore. Quando lo chiudiamo abbiamo questo piccolo schermetto che per molti è stato definito la parte cruciale, il punto più importante di questo smartphone, quello che gli consente di avere quella marcia in più rispetto ad altri dispositivi, foldable a conchiglia. Ma cosa si può fare realmente con questo display? Poco, secondo me, perché si possono sì vedere le notifiche, si può interagire tramite dei comandi vocali, si può addirittura vedere la fotocamera quando andiamo a scuotere il device, ma finisce lì perché non si può avviare nessuna applicazione, non possiamo fare nient'altro. Secondo me l'implementazione migliore del display esterno l'abbiamo avuta con il Galaxy Fold dove realmente si poteva lanciare qualche applicazione se aveva un'interfaccia smartphone Android come la conosciamo. Ovviamente qui si è stati costretti a racchiudere il tutto in uno schermo un po' più piccolo perché le dimensioni non consentivano di inserirne uno un po' più grande, però secondo me non è il punto più importante di questo smartphone, non è quella cosa che ti fa dire ok il Motorola Razr ha lo schermo esterno, è più comodo, lo preferisco rispetto agli altri. È comodo? Sì, però sicuramente non è la killer feature. Motorola con questo smartphone ha voluto riportare quello che era il design così tanto iconico che avevamo visto nel 2004 con il vecchio Razr V3, però nel 2020 ha dovuto creare un dispositivo che avesse delle caratteristiche che sono ormai imprescindibili in ogni smartphone come ad esempio il sensore per ripronta digitale. In questo dispositivo l'hai importato all'interno di questa piccola tacca, è un capacitivo molto semplice però tanto affidabile e soprattutto riconosce 10 volte su 10. Si può ovviamente utilizzare da aperto ma anche da chiuso perché questo è un device che utilizza l'NFC quindi io semplicemente andando a sbloccare quando abbiamo il dispositivo chiuso, sono avvicinato a un posse e ho potuto pagare tramite il contactless. È una cosa che è molto comoda specialmente perché non dobbiamo stare lì ad aprire il device, sbloccare o fare chissà quale altra operazione. Si può anche sbloccare tramite la fotocamera interna e anche tramite quella esterna e adesso vi voglio parlare un po' delle performance fotografiche che si possono ottenere con questo device. Anteriormente o meglio internamente abbiamo una piccola fotocamera da 5 megapixel mentre esteriormente c'è un'unica fotocamera da 16 megapixel, non c'è nessuna camera grandangolare, una 2x, 3x, c'è soltanto una standard che è capace di fare buone foto. Questo però soltanto quando abbiamo della buona luce perché comunque si sfrutta l'interfaccia e gli algoritmi Motorola che quando si attiva l'HDR riescono a offrire degli buoni scatti però quando la luce cala ovviamente si può intervenire tramite una modalità notturna però offre dei risultati che non sono il massimo. Sicuramente se fosse stato un dispositivo con questa fascia di prezzo non pieghevole sarebbe stato totalmente bocciato da questo punto di vista dalla parte fotografica però siccome stiamo parlando di un dispositivo così tanto esclusivo un occhio lo posso chiudere. Vi parlo ora anche un po' velocemente di quelli che sono le specifiche tecniche però vi dico fin da subito che non sono la cosa più interessante di questo device anche perché essendo così tanto particolare secondo me concentrarci su quelle che sono il SOC e la memoria non ha importanza non sono così tanto interessanti. Comunque sotto la scocca c'è lo Snapdragon 710 questo è un SOC che possiamo considerare di fascia media però comunque è molto veloce non crea alcun problema di impuntamento lag anche perché il tutto viene accompagnato da 6 GB di memoria RAM e 128 di storage interno. Attenzione perché qui la memoria non è espandibile ma secondo me questo non è il vero problema di quelle che sono le specifiche hardware di questo device perché l'unica criticità che gli ho trovato è l'impossibilità di poter utilizzare una sim card. Ebbene sì il Motorola Razr non sfrutta alcuno slot per poter utilizzare le sim si possono soltanto utilizzare le e-sim ed è una cosa un po' limitante perché attualmente in Italia l'unico operatore che consente l'acquisto di queste sim è Tim. Difatti il Motorola Razr viene venduto in esclusiva di questo operatore. Noi per fortuna avevamo una e-sim qui in ufficio quindi l'ho potuta installare su questo device tramite la lettura del QR code. In ogni caso vi invito a vedere il video che abbiamo fatto qualche settimana fa dove vi spieghiamo cosa sono queste nuove e-sim. Comunque io l'ho testato per una settimana e devo dire che non ho avuto alcun problema di recezione specialmente nelle chiamate che sono molto soddisfacenti quando le dobbiamo andare a chiudere perché le possiamo riagganciare come sapete con una semplice chiusura del device ed è una cosa che mi mancava sinceramente. Io non ho vissuto per tanti anni tutta quell'era dei dispositivi a conchiglia. Ero abbastanza piccolo quando si utilizzavano i vecchi Motorola però devo dire che un po' di sensazioni del passato, un po' di nostalgia me l'ha riportata. Mi ricordo mio padre e mia madre quando utilizzavano questi dispositivi a conchiglia. È una cosa che è ritornata e devo dire che è una cosa che un pochettino mi mancava. Ormai l'avete capito il Motorola Razor è uno smartphone fatto di tanti piccoli compromessi e l'abbiamo anche sulla parte della batteria perché questa è divisa in due parti una sulla parte superiore e una sulla parte inferiore per un totale di 2500 mAh. Non sono tantissimi specialmente in questi ultimi tempi dove abbiamo device con 4000, 5000, 6000 mAh di capacità. Io avendo utilizzato tutti i giorni vi posso dire come si è comportato. Mi ha soddisfatto più o meno perché avendo uno schermo con una risoluzione così bassa, una diagonale di solo 6,2, un SoC poco energivoro sono riuscito a completare tutte le giornate lavorative. Ovviamente questo non sono un dato così tanto affidabile perché variano tantissimo in base all'utilizzo che se ne fa dello smartphone però comunque devo dire che è uno smartphone con una durata della batteria inferiore rispetto a quelli che sono gli standard attuali. Dal punto di vista del sistema operativo ci sono poche funzionalità software esclusive. Come sappiamo questo utilizza un sistema operativo Android simile al stock una personalizzazione di Motorola però è molto simile all'interfaccia che troviamo nei Pixel e qui è basata su Android 9 quindi non abbiamo l'ultima versione di Android 10. Ovviamente non abbiamo la 11 perché è uscita l'altro giorno in versione developer preview però comunque siamo un pochettino indietro. Le pagine di sicurezza non sono aggiornate e le uniche funzionalità esclusive le ho trovate nelle Moto Action che sono praticamente uguali a quelle che abbiamo in altri device Motorola e soprattutto nella possibilità di chiudere come avete visto le chiamate con una chiusura del telefono. Per il resto il software è comunque molto pulito perché a me piace tanto l'interfaccia stock, è piacevole nelle utilizzi tutti i giorni e non mi ha creato alcun problema. Ma alla fine dei conti il Motorola Razr, la nuova versione, quella del 2019, inizio 2020 mi è piaciuta, la consiglierei. Secondo me sì perché sono troppo influenzato da quel che rappresenta questo dispositivo. È una innovazione in Motorola. Motorola si è voluta spingere un po' più in là, ha voluto azzardare e creare un dispositivo che non esisteva perché ha riadattato tutte quelle che sono le forme del suo più iconico smartphone o meglio telefonino e le ha portate nel 2020 con delle soluzioni così tanto innovativa. Accedere però a quello che ritengo un pezzo di storia non è una cosa attuabile da tutti perché il prezzo di lancio è di 1599 euro in esclusiva team. Il prezzo quindi è piuttosto elevato però davvero non pensate al Motorola Razr come a un dispositivo da utilizzare quotidianamente. Sono però curioso di quel che Motorola potrà fare nei prossimi tempi, quando potrà portare questo tipo di innovazione anche su altri dispositivi, magari con un design meno azzardato. Comunque questo era tutto per la recensione del Motorola Razr. Io non vedo l'ora di provare tanti altri dispositivi così tanto belli e particolari perché diciamocelo, negli ultimi anni tutti gli smartphone si assomigliano. Quelli che hanno la tacca, quelli che hanno il foro e Motorola gli bisogna riconoscere di aver fatto qualcosa di davvero bello. Davvero non ho altre parole per descrivere questo smartphone. Sì, non ha le migliore caratteristiche, non ha la migliore fotocamera, la migliore batteria, però come vi ho detto all'inizio è un pezzo di storia. Comunque io come sempre vi invito a lasciare un like e un commento e fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questo Motorola Razr. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti da Lorenzo.